Ciao a tutti ragazzi, qui Canelupo Ed oggi sono qui per dirvi tre cose importanti E questo è un questo non lo sapevi Allora, la prima cosa è che Andei dei due giocatori incapaci Sta facendo un giveaway del suo vecchio account stream del valore di 400€ Ed ha più di 60 giochi Ora aprirà un'immagine con un'annotazione Basta che ci cliccate e andate direttamente al giveaway Ovviamente è gratuito e per partecipare eseguite i passi che vi dirà lui nel video Detto questo vorrei ringraziare anche per l'esperienza o per lei Non mi ricordo il nome Ah ecco, Stefano T, non posto lì il cognome E a fine video, vi ricordate che io avevo fatto tipo quelle grafichette Che però era un po' bruttina, no? Era un po' bruttina e allora un mio fan ha deciso di rifarmela Ed è davvero stupenda la vedete a fine video E ringrazio Matteo Pes Grazie tante Quindi andiamo subito con questo non lo sapevi Ragazzi, parto col presupposto che questo non lo sapevi L'ho visto nello stream di Frozen Quindi No di Frozen, come cazzo si chiama? Capo cazzo Al Froggen Di Froggen, scusate, Frozen Che cazzo ho detto Che praticamente se voi usate il TP Quando Anivia muore Aspettate, guardate Non mi faccio vedere proprio un cazzo Non mi faccio vedere proprio un cazzo Me ne saprò nei pubblici da buffo Ma se blocca il gioco, ma prepara a voi Quindi ci rivediamo subito dopo ragazzi Mannaggia a me Ci rivediamo subito dopo Eccoci tornati ragazzi Per questo non lo sapevi Scusate di vedere prima ma se pubblicità del cazzo Mi stanno andando al cazzo Perché mi danno al cazzo è pubblicità del cazzo Come avevo detto Se voi morite con Anivia E prima di andare in forma uova usate il TP Ora vediamo subito Ecco Il TP resta in atto E tu questo? Non lo sapevi Quindi io mi sarei tippato qua E tu ecco vedete sono morto qua Questo non lo sapevi Se il video vi è piaciuto ragazzi Un bel like Se vi va condividetelo Un bel commento qui sotto Per dimmi se lo sapete o no E un faccio a tutti ragazzi Da cane lupo Grazie a tutti Grazie a tutti.